Il reddito di cittadinanza va in soffitta e il passaggio a quello di inclusione diventa un casus belli nei centri di assistenza fiscali, dove si stanno registrando momenti di tensione e insulti verbali, fino a sfociare, come in un caso a Domodossola, dove un'operatrice è stata presa a schiaffi sul posto di lavoro da un cinquantenne ed è finita al pronto soccorso, in aggressioni fisiche. Succede in Piemonte, come in altre parti d'Italia, dove ogni anno di questi tempi gli utenti si rivolgono agli sportelli per la rielaborazione della pratica che serve per avere il parametro ISEE, l'indicatore della situazione economica. È questo quindi un periodo caldo per i rinnovi e l'affluenza è notevole. Basti pensare che nel 2023 il CAF CGL Piemonte ha trasmesso 80.000 dichiarazioni e più della metà, 45.000, sono state svolte nei mesi di gennaio-febbraio. Le modifiche normative apportate all'istruzione della dichiarazione sostitutiva col cambio del nucleo di riferimento per le agevolazioni ha portato però molte persone, soprattutto in età avanzata o che avevano perso il posto di lavoro, a reazioni che hanno toccato la disperazione. Alla notizia che dovevano queste persone, una buona parte di queste persone che aveva sempre fatto l'ISEE come nucleo a sé stante si sono trovati invece nella condizione di dover richiedere, hanno saputo che dovevano chiedere ai genitori, al nucleo di origine anche i loro redditi e patrimoni perché non potevano più essere considerati come nucleo a sé stante e hanno cominciato ad inveire, non tutti ovviamente allo stesso modo però ci sono stati parecchi casi in cui è stato necessario intervenire per riportare la calma. Una situazione che preoccupa gli operatori e che ha visto la riorganizzazione del personale nei vari CAF e CGL affinché negli orari di apertura al pubblico nessun addetto resti solo allo sportello. E come sta vivendo questo momento con momenti un poco esasperati come stiamo registrando? Sicuramente molto dispiaciuta perché comunque mi rendo conto che le persone stanno vivendo un momento molto difficile c'è sicuramente molta esasperazione, queste modifiche sulle istruzioni dell'ISEE comunque portano notevoli difficoltà chi prima poteva avere dei sostegni oggi si trova a non poterne più usufruire e purtroppo siamo noi a dare questa brutta notizia. Ho già visto parecchie persone purtroppo disperarsi ma proprio perché sono poveri veri, hanno bisogno di questo aiuto e purtroppo in questo momento si trovano in difficoltà. L'utenza rumorosa, va detto, è solo una piccola parte della popolazione. Molte volte in questi casi si trova di fronte qualcuno che magari è convinto di essere la parte della ragione o non vuole sentirsi dire qualcosa di diverso allora magari si crea l'episodio spiacevolo. A lei è successo? Ma è successo un paio di settimane fa con un utente che non poteva fare una tipologia, una certa tipologia di ISEE e insomma è andata abbastanza in escandescenza e è stata un'oretta abbastanza dura per convincerla che non si è riuscita a convincerla e di per sé la pratica non è stata fatta.